Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Yorobi. L'altro giorno ero in giardino e stavo rimuovendo le erbacce dalle fugature tra i mattoni. Questa attività la faccio sempre con un vecchio cacciavite, ma ogni volta la schiena e le braccia ne risentono. Quindi ho pensato, perché non costruirmi un tagli erbacce per le fugature in giardino con del ferro di riciclo? Sono venuto subito in laboratorio e mi sono messo a lavoro, ti faccio vedere cosa ho realizzato. Bene, tutti i pezzi in ferro che sto per utilizzare in questo progetto sono recuperati da una vecchia panca per addominale, come le ruote, gli inserti, i piolini in ferro, tutto quanto. Il progetto è molto semplice, avrò bisogno di un carrellino con le ruote, proprio questo che sto tagliando in questo momento, con un pezzi in ferro che andrà perfettamente all'interno della fugatura e andrà a rimuovere le erbacce. Durante il progetto ho pensato di non soldare un pezzi in ferro statico sul carrellino, ma di utilizzare un porta inserti, con gli inserti ovviamente perfettamente incastrabili, in modo da realizzare diversi accessori per utilizzare appunto questo strumento. Perfetto, ora ho tutti i pezzi, carrellino, porta inserti, inserti e anche il sostegno per il manico, quindi non mi resta che saldare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, funziona. Ora non mi resta che andare a realizzare il primo inserto, quello che appunto andrà a rimuovere l'erba dalla fugra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, per essere un'obbista e per non saper saldare, diciamo che me la sono cavata anche questa volta. Ora veloce smerigliata, andiamo a verniciare e poi ovviamente, finalmente potremo utilizzare il nostro strumento. addio mal di schiena. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.